E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Antio Poi, oggi oggi finalmente la finale di Capitan Tsubasa, Rise of a New Champions, se vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like, condividere, attivare la campanella per non perdere il nostro video e ragazzi finalmente possiamo andare nella finale, però prima c'è qua la partita La partita di Brasile-America ragazzi, ah raga, ah, ah cofina raga, dai che ce la facciamo, dai, qua voglio dare le ultime modifiche alla tecnica, eh si allo stato, beh ci teniamo raga il nostro analizz shot come sempre Il contro l'acqua, non si è aggiunto nulla di interesse, tali imperiale, valore 8 C'è anche il spinning, cute boy, tengo l'italia imperiale, blocco le super riflessi che c'è il sito PR Questo vale 6, vediamo se c'è qualcosa di più decente No, questo 5, raga, anzi, 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 raga, vai, è la prima volta che affronto nella mia vita, nella mia vita all'America, buona fortuna a entrambe le squadre, soprattutto al Giappone, bravo Tsubasa Niente cos'è Pagina 52, ah sì, le cose le di Roberto Vai, ti lo guiato, va bene Dora, l'ho sciolto da... Eh, ti pareva che qualcuno nello bloccasse Oh mio dio Azzurro, ragazzi, è potentissimo Chi sta facendo? Cos'era un saluto amichevole, eh, sì, sì, sì Mamma, è vero che ama provocare Mi ho appena letto, so scemo Ma, perché non mi ha fatto il tiro speciale? Il bastardo ci prende in giro Muoio No, raga, è stato tutto il momento che ha detto, quel bastardo ci prende in giro Vai, neodrive shot Oh, ha parato Ah, ma sì, c'è il neodrive tiger stringi sim Neodrive tiger team shot, mamma mia Questo non era una carezza, eh Mamma mia, raga, quanto l'ammazzare di bot Bravo, Takashige No, che palla, non l'ho fatto fare il dribbling Vai Z-9 No, ma perché non mi correva, dai Bravo Eh, non mi fa il tiro speciale, che palla No Prendi la... Oh, fermatelo Bruce Harper Vai Parti Ma come cacchio fa essere così potente, oh Eh, amen Ma non è possibile, raga, tutti in scivolato mi entrano E' to' fatto io, Ryan Oh, raga, non ne sbaglia uno Però ha subito perso un botto di spirito, quindi non è così potentissimo Oh, parte Takashige, attenzione Abbiamo fatto la missione della storia, buono Raga, non riesco a fare un cacchio di dribbling Partono tutti in scivolato e non riesco a prenderlo Un cacchio Che tra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, ma Wakashimazu Nell'amichevole non riusciva a parare neanche nel tiro di... Cosa? Eh, di Ryan Eh, merda Che poi Blackshot c'è anche, non solo il Blackshot Ma c'è il Super Blackshot Ah, e lui c'è una buona Illusion, merda, merda Qualcuno lo pari, qualcuno lo pari Non è vero, sì, però Wakashimazu, madonna Niente, già un a zero per l'America Che spreco di tempo Sì, sì, mo ti faccio vedere io Che spreco di tempo, vediamo, dai Ecco, appunto Bravo Ma, raga, non riesco a fare un dribbling È impossibile C'è proprio qua c'è scritto Illegale fare... Ecco Aiuto Paralo, ti prego, zio Bravo E mi domanda che poteva rompere le ossa Niente, raga Non riesco a prenderne uno di tiro Eh, sì, di tiro Di palla Bravo Tsubasa Ma che pale Free man Sì, io ti rinchiudo Bravo Io, raga, la zona V Ora la uso solamente per parare i tiri di Black e Ryan Merdissimo Va bene, va bene No, raga, devo fare un tiro subito Vai, vai, vai Analyze shot da qua Bravo, bravo, bravo Dai, 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 che è quasi morto Morto L'avete capito Bravo Non è vero Dai, arbitro di merda Dove, raga, ma l'unico che mi doveva capitare Non aveva il tiro al volo Tra l'altro era Maso Quindi potevano fare la Skylab a Rican Che è un tiro al volo dei gemelli Maso Eh, sì, Maso, vaffanculo E i gemelli di Tachibana Perché ci sono due gigantoni che sono Takasu Quindi, oh, attenzione, vai, vai, vai Dai, ne ho dry shot Bravo Parala, parala Tanto dopo, ti segno Ma un donna, chi salta ha fatto Vai Vai, mamma mia, l'ultimo No, intercetta questo Bravissimo Vai Tirati, va bene Poi lo sta cannonata Un gattino Madonna, tanto l'odio Vediamo se è ancora un gattino Eh Ho fatto parala Scusa L'ho spirito perso Boh C'è un raga Non ha letteralmente più spirito Oh mio, diro Se mi segnano i pauri Sì, fortissimo Madonna Che paperato stava per fare Madonna No, che palle C'è una zona B Va bene Va bene raga Cos'è almeno Se li faccio col Perché ha pochissimo di spirito Molto meglio Perché ne hanno sprecato uno Eh, merda, merda, merda Vai Eh, super blackshot questo Vai Uso la zona B Vai Va bene raga Vakashimazu Bravissimo E' problema che non ne devono più fare DT speciale perché non ho più la zona B Vediamo ancora se è un gattino E' quello che Eh, vabbè, ma fa un gulo E' nemmeno il tempo No, 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 no No, che palle E' interiore 2 a 0 questo Grandis, Gito, ti amo Gito, ti adoro No, scusa Non posso capire tutto Ma come cacchio fai Ma fai veramente schifo Allora No, raga Non puoi metto Vakashimazu Vabbè Non ha più senso Raga, ma E' niente Chi è sto coglione Con gli occhiali Vai, tiro guidato Ti è Boh, però raga Dovevamo fare subito un altro gol Che palla A meno Tempi supplementari Eh, niente No, non l'ho usa Perché la tengo Per i tiri speciali Bravo Bravissimo No, tiro da tigre da qua Mi tiro apri un 2G Grande, Yuga Yuga E' ancora un gattino Azvan E' ancora un gattino Grandissimo, Yuga Mamma mia Come ci rivolta Subito in gioco Mamma mia, Yuga Com'è possibile? Perché lo hanno fatto Perché lo hanno fatto? Ma, proprio Sesso E' ancora le cose Se non è vero Non è vero E' ancora un gattino Puoi달�osim? Ti sento Sì Lo hanno fatto Il nostro obiettino Il nostro obiettino Sì Dottor Ma Sì Sì Come si Oggi Sì Diogo Barbaschia Un papà di Giazza, raga Bravo Yuga Vai, mi faccio un altro tiro della tigre E questo qua non lo para Non che prima l'avevi separato, ma vabbè Oh merda No Bravo Takibana Tachibama Eh vabbè, va a fangulo quello che è No William Ti odio No, e vabbè C'è la zona via Grande Gito Vai Madonna mi è morto Gito No, non un'altra volta Eh Non eravamo d'accordo Non eravamo d'accordo Non eravamo Oh merda Oddio Ragazzi vai supplementare mi sa Come ho fatto a parare il mio tiro Justice Black C'è niente Niente Un altro tiro super speciale Non mi piace quella situazione No, 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 non all'ultimo però Tutto ma non all'ultimo Bravo Gito Ci sono in extremis E si va Le supplementari Anzi Raga Sentite Io raga Mi metto Metto Wakabayashi Raga Scusa Scusa Wakashimato Ma devo mettere un portiere più forte Non che tu faccia Cagare c'era Alta un pochino Però vabbè Allora dobbiamo Segnar di la Madonna No di la Madonna Aiuto Non capisco niente E' lo spirito combattivo E' infatti Voi non ce la vedo No, che palle, dai No, 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 no No Ma, come Non scordo tra gigantoni Va agito No, ma mi ha tostracciato Oddio, Yuga Oddio Oddio, 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 oddio Va inutile dal tigre Non lo può parare Oh No, aspetta No, la storia qua No, non ho capito Raga, qua Da distanza Non l'ha preso Ma da due centimetri L'ha preso C'è qualcosa che non va Perché teoricamente Per un portiere E' più difficile Prendere un tiro Da vicino Che da distanza A meno Per me Dai, vieni Ma perché Mi fa fare, ragazzi Un secondo dribbling C'ho dovuto C Che palle Voglio almeno avere un B Eh, sì Sì, domani Vai Raga Non voglio assoluti Per nessun motivo Andare ai rigori Perché io li perdo sempre Bisogna uno schiappo Ok, ho il Nel caso Il Va bene Ho il Cosa di Wakabayashi Vai Vai Uff E' culo Vai Con passaggi Piccoli passaggi Ecco Vai No Che palle Mi ha scartato Cioè Non è che se uno ti scarta Te cadi Però Non c'è Vai Ma perché Mi ha fatto il tiro guidato Che palle Bravo Il No No Il Il Tiger Lo ho aperto Pant Kick Doco Mane Hacover No 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 Bruce Alfer Non fare Cavolate Grazie No Eccola La Bravo Akabayashi Stava per segnare Non vorrei dire E si va ai calci Di rigore Raga No Non c'è Assolutamente Voglia Di Difarla Per favore Allora Iniziamo Con Una cannonata Da destra Bene Io Avrei Ho detto Nella mia mente Devo metterla Centrale Perfetto Eeeh Destra Oddio Oddio Grand Wakabayashi Sei un mito Ah Io non posso Assolutamente sbagliare Quindi la metto Di nuovo A destra E' un po' Un rischio Propriamoci Bravo Bene Perché ne abbiamo subito Parato 1 Allora io provo Sinistra A centrale Va bene Va bene Va bene Ragazzi Devo sbagliare Uno Proviamo Raga centrale Stavolta Centrale Una cannonata centrale Fa sempre bene Nooo L'apparato Palla Ora stiamo Siamo uguali Eeeh Eeeh Oddio Sinistra Grande Wakabayashi Wakabayashi C'è Wakabayashi C'è Eh sinistra Tira una cannonata Grazie Tutto Raga Sta sempre lì Centrale Ragazzi Se lo parò Abbiamo vinto Automaticamente Va bene Va bene L'accetto Ragazzi Non ne devo sbagliare Una Ah no Ma Io Masao Ti uccido Se la sbagli Grande Grande E la stavo Per sbagliare Oh Grande Grande Sè Sè Giappone Abbiamo vinto Campioni D'Europa No In realtà Non so neanche Che cacchio Siamo campioni Di cosa Boh Non lo so Però abbiamo vinto Abbiamo vinto Sium Grandi Raga Gigi Gigi A tutti Grazie Grazie Dove essere Con Ryan Ragazzi Con Ryan Non ci dà Il super shot Il tiro super No Non ce lo dà Ah Peccato Ora vi faccio vedere Il video qua Della prima azione Che è un po' brutto Però dai Che è un po' brutto Ora il video Della prima azione In teoria Vero? No Cosa ora? Ecco Vero ora vi faccio vedere Il video Dai E' I' Della Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma vaffanculo dai non ha fatto niente nella sua vita Grazie a tutti Grazie a tutti E finalmente ragazzi siamo rivali di qualcuno Attenzione Si siamo a casa che bello Perchè non va avanti? E adesso si va a salvare anche il nostro personaggio che non è il più forte di tutti Perché la più forte di tutti al momento è Aurelio Biasi che sarebbe Biasi Cicarama se ho fatto anche loro Ragazzi Non è assolutamente male Cioè per l'amor di Dio poteva uscire qualcosa di più bello e di più forte E vediamo se va a 126 no rimane così va bene lo stesso ragazzi e ragazzi terminiamo la registrazione E niente abbiamo concluso con successo questa serie No ragazzi ci vediamo nel prossimo video bello Grazie a tutti